Il scontro è aperto tra sindacati e regione Lombardia sulla gestione dei vaccini all'interno delle aziende, a sollevare la polemica alla UIL con una presa di posizione ufficiale nelle scorse ore. Ancora una volta la regione non ha perso l'occasione per dimostrare quanto si è ripiegata sulla sola ricerca del consenso, la fondo del sindacato. Al centro dello scontro l'accordo siglato con Confindustria da cui sono stati esclusi i rappresentanti dei lavoratori. A livello nazionale è un'idea della UIL, Pierpaolo Bombardieri l'ha avuta, l'ha sostenuta, la sta sostenendo col ministro, di fatto il ministro Orlando convocherà i segretari generali di CCL Cisle UIL e il presidente di Confindustria proprio per finalizzare questo ragionamento di possibilità di somministrare i vaccini anche nelle aziende. Ci ha soppreso questa fuga in avanti di regione Lombardia con Confindustria senza coinvolgere le organizzioni sindacali. Noi riteniamo che soprattutto in questa fase qua il sindacato ha dimostrato molta responsabilità e si è fatto carico anche di supplire anche tutta la fase di spiegare perché serve il vaccino. Regione Lombardia ha quindi sottolineato la UIL non sta di certo brillando nella gestione complessiva della campagna vaccinale aggiungendo danni su danni nell'ultimo periodo. In Lombardia il primo ragionamento è partito a Brescia con il prefetto che è stato anche a Pavia, con il presidente di Confindustria di Brescia e con il CGL Cisle UIL di Brescia dove è stato fatto già un protocollo che prevedeva la possibilità di fare i vaccini nelle aziende. Il coinvolgimento c'era, l'idea è partita da Brescia, la regione Lombardia si è comportata in maniera diversa. Noi speriamo che questo impasso venga superato.